Sentenza imminente per l'omicidio di Saman Abbas. Il padre nega le accuse. Prima di avviare il video, ti chiedo di premere il pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie. Oggi è attesa la sentenza per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane di 18 anni uccisa nel 2021 a Novellara. Cinque familiari della vittima sono imputati per omicidio e soppressione di cadavere davanti alla corte di assise di Reggio Emilia. Il padre Shabar Abbas, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanulak Nomanulak, entrambi detenuti e presenti, e la madre Nazia Shaheen, attualmente latitante in Pakistan. Il padre di Saman, Shabar Abbas, ha negato di aver ucciso sua figlia davanti ai giudici, dichiarando «Mai nella mia vita ho pensato di uccidere mia figlia, neanche gli animali fanno queste cose». Durante il processo, la procura reggiana ha richiesto condanne all'ergastolo per i genitori e 30 anni per gli altri imputati, con l'accusa di aver organizzato l'omicidio a seguito del rifiuto di Saman di un matrimonio combinato in Pakistan. Il padre, visibilmente commosso, ha ribadito che sua figlia era «intelligente, forte», ma ammetteva che «diceva anche bugie». Ha respinto le accuse del fratello di Saman, il quale aveva dichiarato che i genitori e altri familiari erano responsabili dell'omicidio. Shabar Abbas ha anche parlato della relazione della figlia con il fidanzato Sakib, definendola «non amorevole» e sottolineando il disappunto della famiglia per le foto dei giovani sui social media. Il racconto del padre sulla sera dell'omicidio include il tentativo di convincere Saman a non uscire e la supposizione che la ragazza fosse stata prelevata da Sakib o qualcun altro. Shabar ha affermato che, quando ha cercato di vedere chi stava passando a prenderla, non ha visto nulla e ha pensato che la figlia fosse andata via. Infine, Shabar Abbas ha sottolineato di non comprendere il motivo per cui sua figlia veniva presa dai servizi sociali, attribuendo la situazione al presunto disinteresse di tali servizi per i minorenni. La sentenza è attesa per la serata odierna.